ora non so se riesco ad ucciderli tutti e due quindi facciamo così dai ma beh mi hanno niente buttato giù nesla in un turno no povero stessa di vita ma quanto male ha fatto quello ora dovrei buttargli lì giù entrambi ma dai l'ha curato bastardo vabbè ora lui schiva finisci di recuperare vita con la gente che rivive basta oh no quello schiva ora si va bene e quell'orso cosa è aia aiaa 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 uuuh è ancora vivo nesla bravissimo nooo Vaffanculo I lost No non gli faccio nulla a quell'orso Dai Hai già arrivato all'orso tu Ma gliene mancano quattro in realtà Ah ok ti ha già messo l'orso Ok Ma si Vedi quest'orso dietro di me Ora è tutto tuo Maledizione Goku è caduto Sotto i colpi Quando a te cade Goku Vuol dire che siamo messi male Eh c'è Kauran che mi recupera vita Quando gli uccido E infatti ho cercato di buttarlo giù il prima possibile Tanto quell'altro non cade Quindi faccio prima buttare giù Oddio evasione ancora No basta Non mi ti basta Questo fa malissimo quest'orso Aia quanto fa male scouch Ah è morta Karen Vediamo se facendo un po' di setup Riusciamo a prendere meno danni Ecco ora è arrivato l'orso anche da me Ah è molto cattivo Mi ha appena tirato un pugno Fortissimo mi ha spedito dall'altra parte del dojo Proprio nell'animazione L'ho visto volare dritto Hai visto se gli fanno più male le cose speciali o Per ora da quel che ho visto non gli fa male niente Penso che sia abbastanza neutrale Come tipo Oh no ma intendo le cose speciali o fisiche Ah eh io gli sto tirando solo speciali Perché i miei c'hanno queste Mamma mia Tornado gli ha fatto tipo neanche un quarto di vita Oh no C'è cosa? C'è scratch? Eh sì Sì io sto affrontando entrambi Hai gli ultimi due anche te? No me ne mancano tre Sì me ne mancano tre E mo chi è il quarto? The Owler come backer Cosa fa? C'è il lightning Non fa Eh dai Puoi se ne ha causare Provare ad usare ipnosi Ma Voglio come funziona In questo gioco Si sta andando Ma me l'ha shottato? Oh no Scans Scans Sta usando Inner Spirit No 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 Grandissimo Typhu Resiste con sette punti vita L'orso è caduto Sì È caduto dal suo trono Vabbè allora io metterei questo qua davanti Tanto ne buco Buscherà tantissimo da quel tizio Forse mi ha fatto una suplex su Typhoon Ah l'ultimo è Axarox Va bene Mentre invece Aia No anche avvelenato dai Ma non gli fa niente l'acqua quello? Bello Utile Per capa roia L'host Ti era Cosato all'ultimo turno Addio Chi metto Chi metto Oh lascio l'host Ti lascio l'host a sto punto Oh no Il pugno Capa Ritorna A volare A velocità della luce Quel pugno Quel pugno l'hai visto? Sì Esatto È terribile È bellissimo E ce la farò Iner spirit No 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 Ah vabbè dai Andiamoci a andare E mi dispiace l'host Ti devi sacrificare per la causa Invece mi ha usato ninja jutsu Mi ha perso alle spalle E mi ha tirato una botta nel culo Incredibile Porca troia Sto pensando a chi tirare in campo Oh grandissimo però Yowlar Yowlar non aveva più bersagli Ha fatto di nuovo la suplex E è morto Benissimo Perché gli mancavano bersagli E ha usato troppa energia Ok Sono agli ultimi due miei tentem anche però Get why A me è rimasto solo scrunch Ok Axarox però non mi preoccupa assolutamente Akranox vabbè Come faccio si chiama Sì sì Il suo nome è differente Kanch ha poca vita Però sicuramente mi shotterà lightning Inner spirit Infatti Infatti Lightning è mortissima Esatto Lui si è fatto un casino di danni Scancio Per fare quella mossa No non l'ho shootato Akranox Sporca troia Inner spirit Che basta però usare queste mosse Per favore dai Almeno l'ha usato Oddio è ancora vivo Grande Ok Akranox è morto 2Y contro Skunch 7 Giusto per darmi un minimo di boost in più Dai Ok ho visto che tanto 2Y ha Più danno Fisico Che speciale Quindi non ha senso fargli tornado Ninja Jutsu Di nuovo Che speciale